Gli avevano prosciugato il conto post-e-pay. Parliamo di un 57enne di Campobasso, vittima di un hacker informatico ora individuato dai carabinieri. I carabinieri di Campobasso hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 29enne di Reggio Calabria per il reato di frode informatica. Le indagini sono partite lo scorso marzo a seguito della denuncia di un 57enne del capoluogo che si era accorto che il suo conto era stato prosciugato. Recatosi presso uno sportello per un prelievo, la mara scoperta e il suo conto era appunto esaurito. Dalla sua post-pay era partito un bonifico, e non certo per sua volontà, di 2850 euro. Da qui la denuncia ai carabinieri, attivatisi immediatamente con le indagini. E dopo alcuni mesi i militari sono riusciti a ricostruire il tragitto percorso da quella somma di denaro, confluita appunto sul conto del giovane calabrese, totalmente sconosciuto alla vittima e con la quale non aveva mai avuto alcuna forma di rapporto economico. Quella delle truffe online e delle post-pay è purtroppo un fenomeno in crescita, quindi per non incorrere in situazioni di questo tipo è necessario sapere esattamente come la carta prepagata funziona e come è possibile evitare le frodi. Accade di frequente di ricevere mail o sms che, dietro l'invito a eseguire un controllo del proprio conto, invitano ad accedere al sito delle poste attraverso un determinato link. Niente di più pericoloso, quei link vanno immediatamente cancellati perché apparentemente regolari celano chiaramente una truffa. Poste Italiane infatti non usa mai procedure di questo tipo e mai invia email o sms richiedendo tali verifiche.